Ritorni è il tema scelto per l'edizione numero 24 della Milanesiana e la Milanesiana fa ritorno anche quest'anno in Altavalle, dal 20 luglio al gran finale del 27 luglio, sette date tra Bormio e Livigno del più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Stamane la presentazione a Milano si comincia il 23 maggio con un'anteprima però venerdì 7 aprile con Quentin Tarantino in libreria alla Mondadori Duomo di Milano. Interessate ben 23 città italiane in sette diverse regioni con oltre 60 incontri ed eventi e più di 200 ospiti italiani e internazionali provenienti da diverse discipline. E anche il ritorno alle proprie origini quindi padri, madri e figli così come accadrà in un ciclo molto ben definito di quattro incontri nella città di Bormio. Bormio merita veramente tanto di avere la Milanesiana, di avere personaggi così illustri come quelli che porta Elisabetta Sgarbi ed è veramente un valore aggiunto ma un valore aggiunto anche per il turismo. Quest'anno poi saranno 5 giorni quindi un giorno in più col concerto e siamo veramente felici. Il tema i padri, le madri e i figli porterà a Bormio personaggi del calibro di Laura Morante, Silvio Orlando, Pupi Avati e Renato Pozzetto che interpreta il padre di Elisabetta Vittorio Sgarbi nel film Lei mi parla ancora diretto appunto da Pupi Avati. Padri, madri, figli ma anche fratelli nel caso di Elisabetta Sgarbi l'immancabile Vittorio. Lei determina, distribuisce la mia capacità di movimento in luoghi di taglia che lei magari ha conosciuto o ha visto anche con me e che rendono anche particolare questa articolazione su tante località minori ma non prive di importanza. E quindi Bormio è entrata all'interno di questa macchina, di questa centrifuga che si muove e crea un effetto in cui anche Bormio diventa una capitale i giorni in cui lei si applica in quella città. Sgarbi è il curatore della mostra Chiara Caselli Interiors che sarà ospitata nella sede di Bormio della Banca Popolare di Sondrio e protagonista dell'Alexio Caravaggio e Pasolini a 100 anni dalla nascita di Giovanni Testori. Sono veramente fiera di poter dire che l'Alta Valle oltre a Bormio porta Livigno. Livigno per il secondo anno ospita la milanesiana per tre giorni, sono tre eventi bellissimi, quindi sarò in prima fila anche lì con il sindaco Remogalli e con l'assessore Ceronzini. Grazie alla milanesiana Livigno arriveranno al Bano per festeggiare i propri gagliardi 80 anni con lo spettacolo È la mia vita, il concerto disegnato, sì, proprio così di Simone Cristicchi e lo spettacolo di Tullio Solenghi su testo di Woody Allen Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene.